Grazie a tutti. 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 Controllo sicurezza. Tutto in ordine. Elicottero in arrivo. Tenete tutti gli occhi aperti? Grazie a tutti. Troverai una gru all'altro lato del tetto, là, oltre la rete. Spero tu non soffra divertitini. Puoi registrare da fuori, ma fai attenzione. Il vento... lì è molto forte. Ehi, che fai? Ehi, che fai? Non lo so, ecco perché sono qua su. Beh, non dovresti toccare la droga. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ehi, che fai attenzione. 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 Ehi. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti